Ciao a tutti ragazzi, in questa video-lezione vogliamo risolvere il seguente esercizio. Scrivi sotto forma di monomio il triplo di un numero A, la metà del quadrato di un numero A, i tre quarti del prodotto tra il cubo di A e due terzi del quadrato dello stesso numero A, l'opposto del quadruplo del prodotto di due numeri dati x e y. Cominciamo a scrivere, sotto forma di monomio, il triplo di un numero A. Questo è molto semplice, infatti basta moltiplicare per 3. A. Il risultato è quindi 3A. Andiamo avanti. Scriviamo sotto forma di monomio la metà del quadrato di un numero A. Visto che dobbiamo considerare la metà del quadrato di un numero A, dobbiamo moltiplicare per un mezzo il quadrato di A. Il risultato quindi è un mezzo per, possiamo anche sottintenderlo, A al quadrato. Andiamo ancora avanti. Scriviamo sotto forma di monomio i tre quarti del prodotto tra il cubo di A e i due terzi del quadrato dello stesso numero A. Quindi scriveremo i tre quarti del prodotto tra il cubo di A, quindi A al cubo, e i due terzi del quadrato dello stesso numero A, quindi A al cubo che moltiplica due terzi del quadrato dello stesso numero A per A al quadrato. Tutto questo può essere scritto nel seguente del quadrato per, possiamo togliere le parentesi, A al cubo per due terzi per A al quadrato. Scriviamo adesso questo monomio in forma normale ed abbiamo 3 per 2, quindi 6 fratto 4 per 3, 12, 6 dodicesimi che moltiplica A al cubo per A al quadrato, quindi per A elevato alla 3 più 2, il risultato è 6 dodicesimi che è uguale ad un mezzo che moltiplica A elevato alla 3 più 2, quindi A elevato alla quinta. Tutto questo può essere scritto come un mezzo per, che sottintendiamo, A alla quinta. Andiamo ancora avanti. Scriviamo sotto forma di monomio l'opposto del quadruplo del prodotto di due numeri dati x e y. Visto che dobbiamo considerare l'opposto del quadruplo del prodotto di due numeri dati x e y, metteremo un segno meno, quindi meno il quadruplo del prodotto di due numeri dati x e y, quindi meno 4 volte il prodotto tra x ed y. Tutto questo è uguale a meno 4, possiamo togliere le parentesi, per x per y, che può essere scritto, se sottintendiamo il simbolo di moltiplicazione, come meno 4x y. Bene ragazzi, per quanto riguarda questa video-lezione non c'è altro. Sperando che sia stata chiara, vi ringrazio per averla seguita.